Il cartone animato che dovrebbe essere osannato da tutte le guru makeup di YouTube, perché se Lulu puntando la sua spilla su di un cactus poteva garantirsi il guardaroba di Victoria Beckham, c'è anche chi con un vezzoso specchietto poteva diventare chi voleva. E già, ecco a voi Stiglie lo specchio magico! Con una sigla cantata dall'inconfondibile Clara Serena dei Cavalieri del Re, in cui si dice tutto e niente, prendi lo specchio magico che è fragile e mitologico, simbolo di bellezza, vanità, ogni sogno diventa realtà, insomma robe a caso. Questo anime ha vissuto varie vite, ci sono anche due edizioni, dell'88 e del 98, dove la sigla la cantava la d'avena, ma non interessa solo la prima, quella originale della fine degli anni 60, perché cari i miei giovincelli, c'erano i cartoni animati anche allora, mentre erano impegnati a inventare la ruota o a scappare da un T-Rex, ai tempi guardavano anche Stiglie. Stiglie è questa ragazza che per tutto, l'anime, 94 episodi, sfoggia un unico outfit nella più consolidata tradizione dei cartoni animati giapponesi di allora. La ragazzina è la classica secchiona che riesce in tutto, ha tanti amici, i genitori l'adorano ed è una mitomane, nel senso che il suo hobby preferito è guardarsi allo specchio, del tipo, ma chi è quella ragazza bellissima che rischia di mettermi in ombra? Ah no, sono io! Tanto che i genitori a un certo punto le regalano questo specchietto portatile e lei passa le giornate a rimirarsi, anche se un giorno la tapina lo rompe ed essendo una persona piombo non è che lo butta via nell'indifferenziato come farebbe la gente normale, ma in segno di rispetto per lo specchio, lo vedete che è matta, lo seppellisce ed ecco che interviene il fantastico solito folletto, lo spirito degli specchi, che impietosito da tanta sensibilità riesuma l'oggetto e lo ridona Stilli con un upgrade, un potere magico, dicendo una formula fra le più tragiche ma inventate, lei poteva diventare chi voleva. Due le formule per trasformarsi la comodissima, praticissima, te che maia maia con, te che maia maia con, Stefano Piffer, io son, e per ritornare bimba squinzia sempre vestita uguale, basta invece dire lumi pass, lumi pass, lulululù. Per 90 pass episodi Stilli usa questa magia per risolvere o per creare problemi, regalandoci spaccati dalla vita di allora, tanto che ricordiamo un intero episodio in cui viene presentato come una cosa di gran lusso il telefono fisso in camera, se pensate che ora il cellulare uno ce l'ha innestato sotto pelle, fa un po' specie. Con Stilli c'è l'inseparabile amica Moco, l'immancabile ciccione, più altri personaggi in anerottoli. Non mancano anche cose un pelino strane, come la puntata finale quando Stilli e i suoi amici fanno un campeggio con la professoressa Muriyama, che partecipa vestita con taille rosa confetto e scarpe col tacco, un po' come andare vestiti da principessa Serenity a un concerto heavy metal, oppure conciati da Shinigami alla prima della scala. Insomma, si arriva alla fine, mentre la combricola si trova su un'isola scoppia una tempesta e la luce del faro che avrebbe dovuto guidare le navi smette di funzionare. Stilli è disperata perché di lì a poco sarebbe passata la nave del Babbo, capitano della Bagnarola, e quindi il rischio di fare il remake del naufragio della famiglia Robinson era alto. Invocando lo spirito dello specchio, Stilli scopre che, rinunciando ai suoi poteri, avrebbe potuto far convergere la luce di tutti gli specchi del pianeta nel suo portacipria e allora decide di trasformare il suo specchio nella lanterna di Genova e salva tutti. E la serie finisce con sta disperata che rivela che lo spirito dello specchio le ha anche confidato che avrebbe dato questo potere a un altro bambino. E magari, bambino, potresti essere tu, conclude la protagonista. Però, se adesso vi mettete a frugare nella borsa e iniziate a dire toque maya maya con allo specchietto portatile che avete comprato da Sessor Eyes, invoco il fin troppo ignorato nelle ultime recensioni Maremoto di Nettuno. Peraltro anche Milena aveva uno specchio, no? Guarda un po' il caso.